Body Center e Virtus Entella insieme al CSI insieme per un'altra opera di beneficenza in favore delle scuole elementari di Ri e San Piero di Cane danneggiate dall'alluvione che ha colpito il Lettiguglia, in particolar modo Chiavari. E verrà organizzata per il 19 aprile un caccia al tesoro, un tesoro di città. Sì, questa iniziativa fa parte di una serie di iniziative che è una rassegna proprio che abbiamo voluto supportare da parte di tutte le iniziative di privati cittadini che in qualche modo dopo l'alluvione hanno deciso di fare qualcosa per la loro città. Lo scopo è duplice, è quello di raccogliere fondi per chi ha subito danni e anche quello di mantenere saldi questi legami che si sono un po' riscoperti fra i chiavaresi e che hanno dato vita ad una serie di iniziative veramente simpatiche, divertenti, organizzate con poco e che hanno poi reso abbastanza bene. Il 19 aprile vogliamo animare tutto il centro di Chiavari, Piazza Mazzini e tutto il centro pedonale Limitrofo con una grande caccia al tesoro per le famiglie e per i bambini. È una manifestazione che comporterà tantissimo lavoro da parte di un numero incredibile di persone che ci mettono ma proprio tanto 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 impegno. L'organizzazione è del body center, noi supportiamo, devo dire che stiamo ricevendo sostegno da tantissime parti oltre che dal comune di Chiavari e naturalmente dalle scuole elementari che sono state danneggiate, che ovviamente partecipano volentieri, dalle altre scuole elementari. Si sta profilando l'aiuto di società sportive e moltissimi imprenditori chiavaresi. Quindi io credo e spero che sarà una festa di tutta la città. Allora, come si svolge questa caccia al tesoro e chi vuole partecipare cosa deve fare? Allora, basta che mi chiama al 347-9173-238 che è il mio numero di telefono e sarò lieta di ricevere tutti gli iscritti finché possiamo perché massimo 30 gruppi perché sennò poi impazziamo a gestirli. Il tesoro saranno dei bellissimi premi offerti da me come palestra ma ci sono altre, la pizzeria che offre la pizza per tutti. Gentilmente Entella che ci regala, Entella Calcio che ci regala qualcosa di carino, di ricordo. Una medaglia del CSI è offerta a tutti, per cui vuol dire che comunque chiunque parteciperà avrà una medaglia di partecipazione. E poi ci sono anche tante altre cose oltre alla caccia al tesoro. Per chi non fa tempo a iscriversi e non trova più posto potrà benissimo venire con i propri figli o fra ragazzi e partecipare in Piazza Mazzini che ci sarà un'animazione attivissima. Tutti i negozianti hanno offerto la loro partecipazione dando dei regali, facendo dei giochi a premi. Per esempio ci saranno le porte da calcio, ci sarà lo zucchero filato, il trucca bimbi per i più piccoli e tantissime altre cose. Per cui una festa veramente per la città. Adesso dobbiamo solo pregare che ci sia un sole splendido il 19 aprile così festeggiamo tutti insieme.